In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, la Sleiteram partecipa alla quarta edizione dell'Open Week promossa dalla Fondazione Onda. L'iniziativa, che si svolgerà fino al 27 novembre, mira a sensibilizzare le donne vittime di violenza, incoraggiandole a rompere il silenzio e entrare in contatto con la rete di servizi antiviolenza disponibili. Presso l'ospedale di Teramo è stato attivato un infopoint situato all'interno del pronto soccorso e offre materiale informativo e colloqui riservati. Gli incontri si svolgeranno nella stanza rosa, uno spazio dedicato all'accoglienza discreta e sicura delle vittime di violenza già presente nel pronto soccorso dell'ospedale Mazzini. È stato attivato un infopoint nelle giornate che circondano il 25 novembre. Noi abbiamo una stanza rosa che è completamente dedicata alle vittime di genere. Stiamo allestendo all'esterno un banchetto, scusate il termine, dove ci saranno tutte le brochure, le informazioni per le donne che vogliono avere delle informazioni più specifiche o vogliono sentire qualche specialista. Questi servizi offrono supporto, accoglienza protetta, continuità assistenziale e strumenti concreti per chiedere aiuto. Sì, noi abbiamo un triage che è deputato anche a individuare le situazioni di emergenza in codice rosa. L'infermiere ha un alert per cui avvisa il medico e l'infermiere all'interno di un ambulatorio e la donna viene accompagnata o la vittima minore direttamente in questa stanza rosa in modo che è un percorso dedicato e completamente isolato e con una grossa privacy. Negli ultimi anni i numeri sono cresciuti? I numeri seguono lo standard nazionale. Noi abbiamo avuto nell'anno 2023 codici rosa già individuati al triage 19. Di questi 19, 4 sono minori, sia di età minore di 16 anni, sia di sesso maschile che femminile. Associati poi a 59, quindi facendo il conto 14 più 59, quelli non dichiarati inizialmente ma poi individuati all'interno, stiamo intorno ai 70-74 codici rosa fino alla data di ieri. Inoltre il 25 novembre si terrà un incontro dibattito intitolato Violenza di genere non solo, rivolto agli studenti del terzo anno del corso di laurea di infermeristica. Durante l'incontro saranno letti articoli di cronache e poesie sul tema della violenza di genere che stimoleranno un confronto e una riflessione.